God Save the Wine, il profumo del vino e siamo con Alessandro Fonseca che è un esperto in una materia che pochi conoscono perché in Italia Sémillon e Sauvignon, soprattutto in versione muffata che è molto più difficile di passito, sono in pochi a farlo e oltretutto avere l'ardire di farlo a pochi passi da Firenze è una cosa tutta particolare. Partiamo, raccontaci un po' com'è nata e poi sentiamo un po' i profumi. Allora grazie intanto dei complimenti e dell'opportunità, è nata, l'azienda è a pochissimi chilometri da Firenze come poco anzi detto sono 12 chilometri lungo l'asta dell'Arno, in riva sinistra dell'Arno e l'esposizione dell'azienda e l'esposizione dei vigneti è tale che in effetti per altri pensare di fare, di impiantare dei vigneti in quella zona è stato, insomma tanti mi hanno detto è stato proprio un azzardo o anche una mischerata e questo invece nel tempo devo dire mi sta dando ragione. Se si va ad notare appunto questo bianco appunto s'assai, è giusto? Quindi ecco i profumi, il Sauvignon magari lo conosciamo, comunque qui duella con chiaramente la pesca bianca, la ginestra, profumi floreali ma secondo me la componente del Sauvignon è questo profumo quasi di melone, di albicocca che già si sentono tanto. Ecco diciamo che mentre l'aromatico, il Sauvignon chiaramente ha una sua espressione che tutti conosciamo e effettivamente spesso prevarica sugli altri, il Sémillon nonostante non abbia diciamo queste esuberanze e successi in realtà ha una grande finezza allo stesso tempo però ha anche una notevolissima complessità. Uno dei vini con cui si è più famoso appunto è il Puritour Noble dove gli stessi vitigni hanno questo attacco della muffa nobile che libera una quantità di profumi impressionante, cioè questo è il vino a cui tutti perlomeno al primo anno usato rimangono tutti colpiti perché ha queste note di zafferano, di miele, di castagno, di iodio, di ferro, di muffa proprio che però non è facile da gestire perché insomma è un attimo rovinare il vino quando si lavora. Devo dire che questo è l'azzardo ulteriore dell'azienda che è partito per primo perché dal 90 noi abbiamo cominciato a fare questo vino un vino che, cioè le uve lasciate sovramaturare subiscono l'attacco di questo fungo che è la Botrytis a carico della buccia. Grande concentrazione ed è questa direi complessità che ritroviamo nella struttura poi del vino ci sono sempre Sauvignon e Simeon. Io tendo tutti gli anni proprio a mettermi da parte un bel numero di bottiglie diciamo a buona memoria di chi potrà gustarle tra qualche anno però sono sicuro ecco che almeno per ora ne ha dato ragione questa scelta. Perfetto, grazie mille Alessandro.